Eccoci qua, eccoci qua per dirvi un appuntamento solo sulla pagina di Dazon, l'avete visto anche la schermata riguardante la Serie A femminile fino al 2027, ma di questo ne parleremo perché questa sera vi devo dare un appuntamento, proprio neanche fa un'ora, il Milan di Susan Bakker scenderà in campo nel templo del Barcellona, campione d'Europa, perché per affrontare le blaugrana del prestigioso trofeo Gamper. La quarta edizione di quello femminile è la prima volta che il Milan partecipa, mentre sappiamo al maschile ha già partecipato tre volte e non ha mai vinto, chissà, che non riesce proprio nell'impresa le ragazze di Susan Bakker. Quindi è un appuntamento imperdibile e io ve lo dico per tutti i tifosi rosso-neri, dalle denti, potete vedere il match senza coste ingiuntivi su Dazon. Basta una semplice iscrizione e potete vederli tranquillamente Barcellona-Milan per quanto trofeo. Joe Gamper, ho detto tutto, vediamo se farò una diretta, in campo contrario, forza Milan e buona serata!